A Bari, dal 22 al 24 maggio, torna il Festival dell'Innovazione, per rendere il futuro sempre più vicino. Nello spazio, con la nuova location diffusa in diverse zone del centro di Bari. Nel tempo, con le tante anticipazioni sui programmi, le idee e i progetti di domani. Vicino alle persone, con mille occasioni di confronto tra i protagonisti dell'innovazione e un pubblico sempre più ampio. Vicino ai tuoi desideri, con un programma che prevede mostre interattive, laboratori aperti, momenti spettacolari e molto altro ancora. Festival dell'Innovazione, connettiti al futuro. festivalinnovazione.puglia.it È un'iniziativa di Regione Puglia e Arti.